Noi stiamo cercando di riportare o portare D'Annunzio nelle scuole e portare le scuole anche da noi. Perché portare D'Annunzio nelle scuole? Perché abbiamo intitolato questo 42esimo convegno D'Annunzio e la lingua italiana d'oggi. Tutti sanno che D'Annunzio è stato un grande innovatore, ma non sanno che certe parole, soprattutto i ragazzi come per esempio Scudetto oppure Travezino o Velivolo o Folle Oceaniche eccetera, sono parole neologismi coniati da Gabriele D'Annunzio. Presenteremo un concorso, sempre per coinvolgere di più i giovani delle scuole, le parole di D'Annunzio. Chiederemo a tutti i ragazzi delle scuole secondarie operanti in Italia e all'estero di scrivere un breve testo di 500 parole su un neologismo, su una parola di D'Annunzio. Devono commentarla e noi poi una giuria assegnerà dei premi, sono più di 2 milioni i ragazzi che studiano nelle scuole secondarie e quindi questo sarà importante per promuovere la figura e l'opera di D'Annunzio nelle scuole. Presenteremo il sito web del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani, dove stiamo raccogliendo tutti gli atti, le relazioni di tutti gli atti di 41-42 convegni, sono più di 10 mila pagine e quindi da ogni parte del mondo, a partire da, diciamo, tra non molto, potranno consultare le relazioni di grandissimi studiosi di D'Annunzio, relazioni che non si trovano più perché nemmeno gli atti sono spesso rintracciabili. Nel 2016 faremo una quindicina di incontri che si intitolano D'Annunzio e gli altri, cioè ogni volta avremo una conversazione, intervista con un personaggio che si è occupato di aspetti legati ad D'Annunzio, quindi D'Annunzio e Mussolini, D'Annunzio e Pirandello, D'Annunzio e Antonino Libero, un pescarese, D'Annunzio e le signore della moda, insomma, sono tematiche che spaziano in varie discipline.